bella regà buongiorno finalmente nuova serie anche perché un po ne ho le tasche piene dei garciatori devo ammetterlo è perché comunque sia sto completando un secondo album eccetera eccetera comunque al di là di questo regà oggi voglio portarvi in anteprima cinque bustine della delle adrenalin xl fifa world cup russia 2018 uscite regà insieme al topolino di oggi che vi mostro molto rapidamente ma non vado nel dettaglio eccolo qui arriva i carduc buon compleanno inter insomma in occasione del centodecimo anno della fondazione eccetera ecco questo è quanto ci porta topolino e in compagnia ovviamente regà voi ne vedete cinque perché ho preso cinque copie di topolino io lo sapete le cose le faccio sempre in grande e non me faccio ma manca nulla comunque al di là di questo direi di cominciare immediatamente voglio dare una rapida occhiata qua dietro insieme a voi copio maggio vi è data la vendita più che altro mi interessa questo punto qui da condividere insieme a voi magari se avete la possibilità la voglia di cominciare ad acquistare questa serie la questa collezione la probabilità indicata ad intendersi come media numerica bla 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 le card speciali a quanto sembra qui abbiamo 360 team mates special cars 40 fans favorites uno in due pack nove ghost hopper cinque power 5 power for ok quindi questo è in inglese ovviamente però top masters un invincible un po come insomma è così tutte le adrenaline uscite finora vabbè non voglio perdermi in ulteriore chiacchiere mi auguro insomma che vi divertiate insieme a me mi raccomando se volete cominciare se volete questa serie fatemelo sapere perché comunque sia io sicuramente la comincerò tra me e me nel senso che comunque sia sicuramente la portella la collezionerò se la volete anche qui sul canale fatemelo sapere ovviamente mi piace leggere i vostri commenti e lasciarvi tanti cuoricini tanto amore al prossimo dunque vabbè cominciamo così dagli col primo pacchetto cristian gamboa costa rica va bene vediamo un po che ci troviamo meditaremi molto carina o i codici regà prendeteveli pure perché sinceramente questa di questa serie non ho intenzione di giocarci online cosa che precedentemente con i calciatori ho fatto poi 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 renato tapia ottavi anderculo da egli è sempre così ignorante o paolo di bala subito e questo non è un caso dai regà paolo di bala mi perseguita mi ricordo con la trenatin xl calciatori ne ho trovati tre o super 4 power 4 dai subito con prepotenza del brasile dani alves miranda marquinhos e marcello mamma mia regà questa già è una bomba atomica vediamo un po un attimo le super 4 qua i quattro poteri magici ogni a una non ogni cinque pacchetti di è mamma mia roba seria regà oggi pure sto riprovando con la facecam ma vediamo un po se ci riesco che ieri purtroppo non mi andrà bene sono idiota che devo fa allora o spigna dovrebbe essere ad aria noi ci interessano le bombe atomiche lo so regà grosicchi però comunque sia più o meno ecco fammo così che si vede meglio ngolo cantè e beh questo andava visto e infine a un'altra power 4 non ci credo questa volta della svizzera ovviamente ecco switzerland l'iksteiner shkashar madonna e sto a morire pelle mazza regà che culo due bustine con due super 4 no power 4 che sarebbero poteri 4 dai regà così forza non vedo l'ora che esce tutto il resto uguale lo starter pack eccetera perché già già con l'edicolante mi sono messo d'accordo subito prendere due tre copie che mi porta a casa ma tu di non male moses pure questo godelli livermore poi correggetemi se sbaglio e infine che bomba sarà un goal stopper rui patricio invece questi qua regà un attimo solo goal stopper sono una in cinque pacchetti pure questi insomma sono un po più comuni più comuni delle comuni un altro stopper ho visto che sa è dunque de gea bene bomba atomica la casetta pure mamma mia starling ha finito l'inghilterra tra un po così il niente male e come visto un po a racing star avevo visto male va bene così i e anche i e anaccio mamma mia mazza belle frase che regà ste carte ovviamente ripeto sono già uscite penso al di fuori dell'italia però io le vedo per la volta in italia oggi che cosa ho fatto subito immediatamente i soldi faccio circolare in l'italia per il momento poi fa dei hobby scusate se non guardo spesso la webcam però non sto abituato ma ho già visto qualcosa che fallo mi ha tolto già la sorpresa vabbè comunque juric chi è schmeichael bella bella sto proprio contento regate questa nuova serie se vi piace commentate ditemelo che vi porto più video di questi rispetto ai calciatori a rig star e asensio bomba atomica anche questa rega bella e va bene questo è quanto insomma non mi posso lamentare ho già trovato quattro diciamo i 4 super 4 vai super 4 ti è becca e porta a casa tanto una piccola sfogliata per riprende le bombe eccole qui a subito le metterò in un raccoglitore di fantasia purtroppo perché non ce l'ho ancora quello appena uscito bene 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 guardate qua che roba power 4 più un racing star e un racing star due racing star e due power 4 vabbè basta così rega io mi auguro per questo video vi sia piaciuto mi raccomando commentate spolliciate fatemi sapere che siete interessati a questa serie che così ve la porto più spesso quasi tutti i giorni voglio proprio vedere il vostro interesse vi auguro un buon presidimento e mi raccomando sempre a testa alta ok un bacione rega ciao